eccoci buonasera a tutti e benvenuti sono rosa tummolo direttrice del giardino dei libri e questo è il 92esimo webinar gratuito della serie dialogo con gli autori questa sera ospiteremo in diretta in collegamento abbiamo marco cesati cassinna autore ricercatore e studioso di fenomeni legati al destino alle coincidenze e alla sfera spirituale ci parlerà della legge del karma buonasera marco ciao è veramente un piacere averti qui come ospite al del giardino dei libri buonasera a tutti voi che siete online grazie mille per aver accettato il mio invito un vero piacere come sempre come stai tutto bene ci sono sentiti primiti prima ti ho visto in ottima forma tutto bene giusto a posto tutto benissimo ma sempre bene tutto così com'è diceva qualcuno bene e ti voglio aggiornare sul numero degli iscritti che sono veramente tanti e precisamente me lo sono sognato alle ore 20 e poi si stanno aggiungendo altri 4549 iscritti che dire a me fa molto piacere siamo veramente tanti senti marco e ti voglio presentare brevemente agli iscritti che ancora non ti conoscono perché io so che ti conoscono in tantissimi per cui marco cesati cassin è uno scrittore e ricercatore nella sfera spirituale e più precisamente nei temi del destino le coincidenze e il pensiero positivo ha partecipato a numerose trasmissioni tv come voyager il senso della vita mattino 5 e la vita in diretta a gennaio 2016 era protagonista dello speciale angeli di canale 5 nel mese di marzo 2016 ha partecipato come ospite per ben due volte alla trasmissione la strada dei miracoli su rete 4 è collaboratore dell'università nicolò cusano di roma e tiene conferenze e seminari in tutta italia e tiene anche incontri one to one di formazione motivazione e risoluzione problemi ed è autore di numerosissimi libri esempio questa sera ve lo faccio vedere che è molto molto interessante la legge del karma è un libro fresco di stampa uscito a fine gennaio e devo dire che attualmente è nella top ten della classifica di vendita del giardino dei libri è un libro che a me personalmente marco è piaciuto tantissimo e consiglio a tutti i partecipanti di leggerlo eccolo qua poi visto dietro che bella vetrina che ho marco meravigliosa bene marco allora prima di lasciarti la parola ricordo ai partecipanti che potete interagire e partecipare attivamente facendo delle domande qui nella chat sulla vostra destra relativa all'argomento di questa sera potete scriverci così marco risponderà alla fine del suo intervento allora marco io ho questa sera insomma voglio dire che ci parlerai di che cosa è il fatto è il destino del perché ci accadono determinate cose e non altre ed è il perché accadono proprio in certi momenti della nostra vita ok ricordo a tutti perché questa sera vi faccio anche un po lavorare se guardiamo la penna la carta giusto marco ed e procurarvi al volo un paio di fogli è una penna vi faccio fare i lavori comunque molto utili per voi molto diciamo da cui potete trarre dei significati potete trarre delle vostre conclusioni e poi partecipiamo in modo un pochino più interattivo quindi procuratevi per piacere adesso così non vi dovete alzare penna e fogli ben già pronta molto semplice partiamo subito partiamo innanzitutto dicendovi una cosa molto importante io sì sono uno scrittore perché questo libro che uscito è l'ottavo di oggi posso dire tranquillamente che sono scrittore grazie al cielo sono pubblicato da una casa editrice nazionale molto importante del gruppo mondadori però io mi sento prima che scrittore ricercatore cosa significa oggi essere ricercatore significa che tutto quello che vi racconterò stasera io ci credo veramente ci credo perché sono peggio di san tommaso sono peggio di san tommaso vuol dire che ho sempre cercato la prova a si dice così vorrei la prova vorrei credici fino in fondo non solamente sulla teoria anche se magari tante volte sono in vibrazione con quello che ascolto ma ho sempre bisogno della prova perché perché al momento che mi arriva la prova io diventerò assolutamente convincente nei vostri confronti poi ovviamente ognuno la sua verità io la mia verità e ognuno di voi che qui in webinar ha la sua verità e se la tenga bene stretta perché questa verità è l'unica che conta poi se quello che io vi dico qualcosa vi apre qualcosa di vi fa elevare bene allora prendete quella porta apritela e proseguite il cammino sulle informazioni che vi do se invece voi volete rimanere nel vostro va bene lo stesso il mio compito finisce nel momento in cui ve l'ho comunicato vi ho reso partecipi questo è molto importante allora partendo dal concetto che io sono un ricercatore vi vengo a dire che il karma che è la parola di cui oggi noi parleremo anche con molti fatti con delle immagini anche quindi farò vedere anche alcune cose il karma è la sorella maggiore di un'altra parola che si chiama destino è inutile che noi parliamo di karma se non sappiamo su dove agisce che è il destino di ognuno di noi ma se io dovessi domandare a tutte le migliaia che voi siete ma che cos'è il destino che cos'è il tuo destino bene io sono sicuro che la maggior parte di voi direbbe ognuno una cosa diversa purtroppo però siccome noi viviamo in un mondo che è fatto di condizionamenti di stereotipi ecco che la parola destino purtroppo ha sempre come dire un approccio negativo non positivo perché si usa dicendo è andato in conto al suo destino è stato suo destino a che destino crudele insomma come la parola coincidenza invece è ma lo sai che coincidenza stupenda che mi è accaduta allora ecco che va subito nel positivo invece la parola destino finisce lì un po nella parola dove non si vuole mai utilizzare invece il destino se noi cominciamo a sostituire la parola destino con un'altra parola che vuol dire programma allora ecco che il destino che è un programma è il destino della tua vita è il programma della tua vita quindi destino uguale programma della tua vita e a questo punto arriverà la domanda principe che tutti mi fanno ormai da anni ma il destino me lo faccio io giorno dopo giorno oppure c'è un disegno che io sono praticamente una povera pedina ignara che si muove dentro qualcosa già deciso da non so chi quindi qui stiamo parlando di due funzioni completamente all'opposto sono io il padrone o c'è un disegno io ci sono dentro allora questa non è la serata per parlare del destino ma vi do solamente una risposta la risposta corretta è tutte e due dipende dal punto di osservazione dipende da dove ti trovi se sei nel campo di gioco quindi sei nel campo di gioco chiamato vita quindi adesso che mi stai ascoltando ti assicuro che il destino il programma della tua vita te lo stai facendo tu giorno dopo giorno se invece non sei nel campo di gioco sei ancora dall'altra parte quindi immagina che il campo di gioco sia un campo di calcio e tu sei ancora sugli spalti ecco che tu vedi la partita vedi quello che tu farai ma non perché tu hai deciso che farai una cosa o ne farai un'altra perché tutto è già accaduto perché tutto è già accaduto quindi l'unica differenza tra una parte e l'altra la fa solamente il tempo ricordatevelo questo il tempo e soprattutto ricordatevi che voi comunque sia anche se vi fate voi il vostro programma di vita ricordatevi che fino a 21 anni fino a 21 anni voi siete stati vittime voi noi tutti siamo stati vittime tre volte sette più i nove mesi nel grembo materno noi siamo stati vittime non siamo stati padroni responsabili controllori del nostro programma di vita chiamato destino tre volte sette 0 7 7 14 14 21 e 0 9 tre mesi voi non avete idea di quanto ecco lo ricercatore di quante prove io ho raccolto di persone che hanno problematiche nella vita e la problematica è nata quando erano dentro il grembo materno della loro madre perché le cellule le emozioni della madre sono le cellule le emozioni del figlio il feto soprattutto nei primi tre mesi si forma e tutti gli organi si formano con le emozioni e tutto quello che ha vissuto la madre in primis molto di più del padre il padre più un aspetto genetico di dna ma adesso lasciamo perdere tutto questo ne parleremo casomai tra un attimo poi questo per dirvi che se voi arrivate a 21 anni che siete stati inculcati dai vostri genitori dai vostri parenti dalla scuola dalla dalla chiesa dall'oratorio dalle leggi da tutto quanto avete ben poco di vostro vi hanno infarcito di una marea di condizionamenti di comandamenti di informazioni di luoghi comuni di bigottismi e voi arrivate a 21 anni cominciate a occuparvi del vostro programma di vita chiamato destino ecco come si sviluppa questa vicenda e qual è il punto a questo di questa di questa strada io mi devo cercare di come si dice risvegliare e trovare la mia strada non quella dettata dagli altri no ma quante volte voi vedete un padre che quasi impone moralmente emotivamente al proprio figlio maschio di stare nella stessa bottega che dove era lui che ci stava suo nonno e dopo suo nonno il bisnonno o di fare anche lui la laurea in medicina o di fare anche lui ma perché ma perché perché io vado a cascata e qui entriamo già nel karma perché io vado a cascata a dire cose che invece la vita è tua e tu hai il diritto di scegliere la vita è scegliere e invece ecco che abbiamo queste imposizioni di cui è difficilissimo vivendo fuori è molto difficile ed ecco che questo punto sopra questo programma di vita alleggia il karma il karma che è qualcosa che voi ci crediate o meno questo è il bello che voi ci crediate o meno agisce lo stesso il signor karma se ne frega altamente che voi ci crediate o meno il karma è una legge incorruttibile il karma è una legge suprema è una legge che noi non possiamo assolutamente modificare ma soprattutto il karma è talmente autonomo che deciderà lui il modo e il metodo con cui ti deve restituire perché vedete c'è una grande donna che si chiama Blavatsky che chiamava il karma legge della retribuzione una parola stupenda legge della retribuzione vale a dire che tu quello che semini è quello che tu raccogli punto e qui cominciamo a togliere subito cerchiamo di sfatare certi luoghi comuni la gente dice mi ferma dice io un karma pesantissimo chissà cosa ho combinato nella mia vita precedente è vero è vero che tu arrivi su questo mondo indebolito o fortificato di quello che tu hai compiuto e quindi arrivando e adesso vi faremo anche un test attenzione arrivando tu vedrai che cosa hai da pagare pegno cioè vuol dire è come un campionato dato che facciamo sempre la solita storiella del campo di calcio tu arrivi in questa vita e sei a zero o hai per esempio meno dieci perché le hai combinate quindi devi fare da meno dieci arrivare a zero poi andare avanti come quando ci sono le penalizzazioni delle squadre di calcio oppure tu arrivi e c'hai più dieci per dire perché hai un credito da scontare un po' come quando tu fai i credits o i debits tra poco lo vedremo e allora questo karma si comporta con te comunque sia in parte da una vita precedente quindi arrivi col tuo magazzino tu arrivi su questa vita e hai delle bretelle dietro hai un magazzino un deposito lo puoi aprire solamente tu lo puoi vedere solamente tu e a questo punto questo deposito è pieno di tutto quello che tu hai fatto nelle vite precedenti quindi tu con semplicemente devi aprire questa porta di questo deposito e tirar fuori quello che c'è non puoi aprire altre porte hai solo quella e quindi tiri fuori quello che c'è lì da prendere tradotto in parole quello che ti spetta in questa vita lo devi saper accogliere saper accettare perché potrebbe essere sicuramente un pagamento di debito karmico ma ricordatevi una cosa che il karma agisce ogni secondo della vostra vita e agisce su quattro livelli fisico verbale mentale e l'ultimo che le persone pensano da sottovalutare ma non è intenzionale intenzionale sapete che cosa significa vi racconto un aneddoto così vi faccio subito capire che cosa significa e ricordatevi che il karma è una questione vostra e basta intimissima inutile che andate a cercare aiuto o aggrapparvi a qualche altro pensiero o qualche altro ragionamento è una cosa vostra che solamente voi potete sapere allora ci sono due uomini sul ciglio di una strada e a un certo punto uno dei due uomini ha un buco in una tasca e gli cade dal buco della tasca una banconota da 100 euro l'uomo che sta di fianco vede che gli è caduta la banconota e prontamente gira il piede e copre col suo piede la banconota di 100 euro appartenute al signore che l'ha persa nel buco della tasca aspetta che questo qui se ne vada che diventa verde il semaforo finalmente diventa verde se ne va gira il piede tutto contento non se ne ha accorto prende la banconota e se ne va questo senza ombra di dubbio pagherà caro pagherà caro questo furto spero che sia chiaro questo concetto andiamo adesso dall'altra parte della strada e abbiamo altri due signori e c'è un signore che ha un buco nella tasca ma non lo sa e perde i 100 euro i 100 euro finiscono panno giù nella strada e a un certo punto lui guardando in giro abbassa lo sguardo e vede che ci sono 100 euro e pensa che siano di quello di fianco non i suoi e quindi prontamente cosa fa con la scarpa copre i suoi 100 euro e aspetta tutto bello trepidante che l'altro se ne vada una volta che l'altro se ne va gira il piede tira sulla banconota tutto attento che nessuno lo veda e se ne va contento di pensando aver fregato la banconota al signore e invece dopo un po sicuramente si renderà conto che la banconota se l'è auto fregata se l'è auto rubata bene signori anche di questo ne pagherà anche di questo ci saranno le conseguenze e questo è molto importante che uno se lo ricordi perché i tempi e metodi lo ripeto un'altra volta al karma non gliene importa niente deciderà lui quando e sapete qual è il nostro più grande problema il grande problema che noi abbiamo col karma che abbiamo la memoria molto corta non ci ricordiamo di tutte le frasi di tutte le azioni di tutti i comportamenti che noi abbiamo fatto nella nostra vita non è possibile e quindi quando ti arriva tu travesti subito il karma di cosa di disgrazia di sfiga e invece no non è mai così se tu da ragazzino uscito dalle medie fai un gioco con i tuoi compagni e vai a rubare una mela un fruttivendole non hai fame e lui non se n'è accorto e ce l'hai fatta e scappi via tutto contento tu quella mela la pagherai magari la pagherai vent'anni dopo quando torni da una vacanza al mare con la tua bella fidanzata e ti hanno svaliggiato la casa ma non ti ricorderai di quella mela che hai rubato capite che cosa voglio intendere e quindi qual è il concetto di tutto questo il concetto è che noi dobbiamo sempre ricordarci che qualsiasi cosa facciamo metteremo sempre il ritorno sempre che tu ci creda o meno poi esiste anche il karma invisibile che cos'è il karma invisibile il karma invisibile è una sorta di legge delle attribuzioni di cui tu non verrai mai a conoscenza ma è che una cosa che potrebbe riguardarti è una cosa di cui tu magari hai ricevuto un danno però attenzione non andare a cercare giustizie vendette perché la vendetta genera un altro karma e non va bene quindi non azionare un nuovo karma vendicandovi semplicemente accogli l'ingiustizia ricevuta e ricordati che esiste il karma invisibile allora puoi passare con la slide numero uno e ti racconto subito un aneddoto storico per farti capire che cos'è un karma invisibile quello che vedete è geronimo grandissimo guerriero si us che è stato l'ultimo grande capo indiano ad arrendersi all'esercito degli stati uniti d'america anzi lui era proprio un irriducibile non ne voleva sapere perché non voleva sapere perché lui aveva dettato delle condizioni di resa sta in una certa una certa riserva con questi animali con queste persone con questo tipo di aiuto bla 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 e diciamo che il generale mills che era il comandante in capo dell'esercito degli stati uniti d'america non aveva mai raggiunto questa negoziazione fino a quando a certo punto siccome la guerra andava avanti per parecchio tempo venne delegato un un capitano vai con la numero due di nome capitano lowton che qua vedete che fu incaricato dal generale mills di negoziare questa cosa ma che cosa succede che il capitano lowton per farsi bello per avere la gloria va a dire a geronimo che tutta una serie di cose che prima il generale mills aveva detto di no adesso aveva detto di sì quindi se invece di dieci cose cinque ha detto di sì e cinque no e non diventate otto sì nove sì e una no a questo punto geronimo si fida del capitano lowton e quindi si arrende e quindi capitato capitano lowton diventa l'eroe dell'esercito degli stati uniti d'america proprio è qualcosa perché senza più spargimento di sangue è riuscito ad arrestare geronimo che viene tradotto in una riserva che non era la riserva che lui aveva chiesto e non ha le cose che lui aveva chiesto è stato tradito è stato tradito ebbene nel frattempo questo signore il capitano lowton diventerà generale verrà promosso generale e voi vi domanderete a questo punto il karma che fine fa il karma agisce silenzioso e quello che vi sto per raccontare sicuramente è molto probabile che geronimo si è venuto a saperlo molto tempo dopo perché allora non c'erano mica i cellulari perché vedete il generale lowton viene mandato a comandare l'esercito dei stati uniti nella guerra contro le filippine siamo nel 1899 e una sera il generale lowton rientrando al suo forte col suo drappello totrellando nella giungla cade in un'imboscata terribile di centinaia di filippini dove c'è uno scambio scruento di fuoco e a un certo punto il generale lowton si trova di fronte a un suo alter ego un altro generale filippino tirano fuori la pistola tutte e due il filippino è più veloce e con un solo colpo un solo colpo lo prende al cuore e muore il generale lowton a soli 56 anni e voi direte e dov'è il karma e adesso ve lo faccio vedere chi era questo generale filippino va e la figura numero 3 il generale filippino si chiamava generale geronimo si chiamava generale geronimo l'iserio geronimo ecco un esempio classico di come si muovono queste energie di come si muovono e come decidono queste leggi io e poi vi dico che l'ego non deve essere soddisfatto non dirà ben gli sta voi semplicemente lasciate andare perché questa persona che vi ha fatto un torto pagherà sicuramente e se non lo pagherà in questa vita lo pagherà nella prossima su questo è certo e allora a questo punto io vi voglio domandare prendete carta e penna voi voi che mi state ascoltando state pronti a fare questo picco esercizio perché vi voglio fare una domanda voi oggi 24 febbraio 2021 prendendo in mano tutta la vostra vita da quando siete nati voi ritenete di essere in debito o in credito con la vita che cosa significa essere in debito significa che voi avete ricevuto così tanto che vi dovete sdebitare siete da sdebitarvi quindi siete in debito con la vita io sono in debito con la vita perché ho avuto tanto mi devo sdebitare all'inverso se voi avete come avuto così poco avete sofferto così tanto avete avuto così tante ingiustizie avete avuto così tanti dolori allora voi siete in credito con la vita siete in credito dovete ricevere allora prendete carta e penna e fate questo auto analisi un consiglio è un esercizio molto veloce e molto semplice ma deve essere onesto guardate potete ingannare chi volete ma non voi stessi cercate di essere consapevolmente onesti con voi stessi preparate una lista eccola qua dove dovete scrivere dalla parte sinistra scriverete 0 7 anni 7 14 14 21 amore salute denaro lavoro famiglia come vedete sono 3 5 8 voci poi sotto fate il totale di fianco abbiamo messo D che sta per debito e C che sta per credito adesso prendetevi un minuto tornate con la memoria con le emozioni in tutti questi periodi basterà che voi ricordiate un attimo avevate nostalgia dei vostri 7 14 anni elementari le medie stavate bene ricordate con con nostalgia quei momenti quelle quelle la vostra famiglia le vostre amicizie oppure no avete sofferto e 14 21 che si chiama al corpo delle emozioni avete avuto delle belle emozioni avete vissuto i vostri amori avete avuto le vostre idealizzazioni di amore belle al liceo come andava e potevate uscire fuori oppure vostro padre di tenere sempre chiuso no sono ricordi terribili sono sofferto tantissimo e facendo la somma dell'amore alla fine amore sono proprio sfortunata mi è sempre nata male mi hanno sempre tradito oppure avuto sì delle belle storie d'amore ho amato e sono stato amata e in salute sì ho avuto qualche acciacco sì una volta mi sono sono caduta mi sono rotto fratturata la tibia e perone d'accordo può succedere però insomma ho avuto una salute buona no sono proprio molto molto fragile con la salute denaro ho inseguito il denaro tutta la vita mi è sempre mancato il denaro sin da quando ero dentro la mia famiglia che non facevano altro che parlare del denaro io ho un'ansia sul denaro è una cosa allucinante no io ho avuto sempre il denaro che mi spettava né più né meno quello che mi serviva sono sempre stata bene col denaro lavoro ho sempre cercato è andata avanti così su tutte queste voci e mettete semplicemente siete in debito vuol dire che avete avuto tanto siete in credito vuol dire che avete avuto poco una volta che avete finito di metterlo di fianco a ognuno fate semplicemente la somma sotto dei debiti e sotto dei crediti possono accadere due cose una che siete in debito quindi ci sono più debiti che crediti due che ci sono più crediti che debiti tre che possono essere pareggiati quindi avete un karma in equilibrio e questo riguarda la vostra attuale vita non riguarda vite di chissà quando e di adesso di ogni secondo ma cercate di non ricordare solamente l'ultimo anno magari questo del covid cercate di andare indietro nel tempo cercate di verificare veramente che vita avete avuto qualunque età voi abbiate ricordatevi che la vita è sempre suddivisa per sette sempre per sette non dimenticatelo mai purtroppo il mio tempo scorre velocemente spero di interessarvi perché adesso devo ancora andare avanti e dirvi un'altra cosa molto importante perché questo è un altro aspetto che il karma vuole sempre vedere risposte la reincarnazione allora è inutile che io vi dica che credo fermamente la reincarnazione credo fermamente nella multidimensionalità della nostra anima che appartiene al nostro spirito che attraverso il corpo fisico si manifesta in questo mondo quindi noi siamo anima ogni centimetro della vostra pelle è anima non abbiamo qualcosa qua dentro che è l'anima e il resto non conta nulla tutto quello che noi siamo e anche quello che non vediamo intorno a noi è anima perché l'anima si espande l'anima è energia che arriva a toccare a coinvolgere chiunque voi abbiate a che fare l'anima è vibrazione e nella vibrazione andate o in sintonia o in distonia con chi avete a che fare e allora a questo punto io vi domando ma questa reincarnazione ma me la date una prova di questa reincarnazione signori miei esistono tanti tanti libri sulla reincarnazione e guardate che gli studi più importanti li hanno fatti i neuropsichiatri infantili perché perché cosa nota che le memorie nelle vite precedenti permangono nell'anima appena giunta in questa nuova vita fino ai 5 massimo 8 anni e qui vi voglio raccontare velocemente per me l'aneddoto più importante più fantasmagorico della prova della reincarnazione ed è quello di Shanti Devi vai con la slide numero 4 questa storia è accaduta prima della seconda guerra mondiale in India vicino a New Delhi questa bambina che voi vedete si chiama Shanti Devi diventerà la bambina più famosa del mondo per questa vicenda qualcosa di spettacolare di incredibile perché perché questa bambina che vedete vicino a quel signore coi baffi è una bambina che fin da quando ha cominciato a parlare continuava a dire ai suoi genitori che lei lei non era loro figlia che lei era una donna sposata con un uomo che abitava a Nuova Delhi che era circa 150 km dal loro paesino e continuava a descrivere non solo suo marito ma tutta la sua famiglia la casa in cui viveva voi potete immaginare questi poveri genitori che hanno cominciato a pensare che fosse pazza che avesse delle malattie ma siccome questa cosa perseverava e insisteva ed era sempre più precisa a un certo punto vi faccio la storia molto breve ma a un certo punto il papà cominciò a indagare e scrisse una lettera dove rispose il fratello del marito vedovo perché lei diceva di essere la moglie scomparsa quindi stiamo parlando tra l'altro di una reincarnazione molto veloce perché era successo vent'anni prima quindi tutte le teorie che ci vogliono migliaia di anni centinaia di anni non ci sono leggi non ci sono regole c'è solamente un ordine delle cose dove tutto è perfetto e quindi se qualcuno deve rinascere un giorno dopo rinascerà un giorno dopo se qualcuno deve rinascere mille anni dopo o duemila anni dopo rinascerà mille o duemila anni dopo anche perché dall'altra parte il tempo non c'è c'è un'assenza di tempo quindi non c'è neanche l'eternità per dire l'eternità è è un concetto che fa da questa parte di là non ci può essere il concetto di eternità perché appunto il tempo non c'è e quindi non c'è neanche l'eternità chiudiamo questa parentesi che non ha in questo momento importanza andiamo ancora da shantidevi shantidevi a questo punto incontra il fratello il fratello di suo marito lo riconosce stanno un'ora a parlare e il fratello sconvolto letteralmente sconvolto torna a casa dicendo questa è mia cognata non c'è nessun dubbio a questo punto organizzeranno questo viaggio dove ci fu tutta la famiglia presente di della della donna deceduta questa bambina che si siede nel salotto di casa sua comincia a chiamare salutare tutti quelli che entrano a parlare tutto quanto il marito che piange di rotto sbigottito perché sta vedendo una bambina non è che sta vedendo sua moglie ma come parla le parole che dice cosa dice non poteva assolutamente sapere nulla di tutto questo ma ci fu a certo punto un punto vala slide prossima ci fu un punto fondamentale dove a certo punto il marito vedovo zittisce tutti quanti e disse se tu veramente sei la mia adorata moglie ti ricordi quando mi dicevi che ero uno spendacione e che quindi avevi deciso di mettere da parte tutti i nostri risparmi tutti i nostri risparmi tutte le nostre rupie le avevi decise di nascondere e mi avevi detto che non mi avresti mai detto nascosta perché avevi paura che prendessi i nostri risparmi ebbene te ne sei andata e io questi risparmi li ho cercati dappertutto ho messo sotto sopra come un calzino tutta la casa e non l'ho mai trovati se tu veramente sei mia moglie dimmi dove hai messo quella scatola con dentro tutti i nostri risparmi la bambina si alzò corse fuori nel giardino scavò con le mani nude sotto un albero fino a circa 50 centimetri e tirò fuori una scatoletta di metallo straripante di rupie ecco dove arrivò la prova che cancellò ogni ultimo dubbio a questo punto viene informato il governo indiano dove vai avanti ancora con le immagini il mahatma gandhi ordinerà un'indagine parlamentare parlamentare quindi vennero politici parlamentari medici di tutto per vedere questa storia sera aveva un fondo di verità inutile che vi dica che la conclusione la relazione del governo indiano fu che era vero che questa era un caso assolutamente ufficiale di reincarnazione di shantidevi ed ecco l'ultima foto voglio farvi vedere è shantidevi vai nella prossima shantidevi adulta ha vissuto poi a lungo e questa storia è per me la dimostrazione che noi non dobbiamo mai dubitare di questo ma adesso rimane ancora con le immagini vi voglio fare anche un po' divertire perché poi vedete la vita deve essere presa il più possibile alla leggera perché è una commedia la vita è una commedia dove noi abbiamo mille maschere e quindi cerchiamo di capire un po' alla luce di questo dove stanno le reincarnazioni vai con la prossima immagine e vedrete una famosissima attrice sulla vostra destra che si chiama jennifer lawrence che è identica a questa ragazza dove l'aspetto intrigante di questa vicenda che questa ragazza è la più grande attrice egiziana e sono identiche vai con la prossima vedete la somiglianza incredibile e questa questa attrice ovviamente vissuta in un'altra epoca è deceduta prima che nascesse la lawrence e uno si domanderà che ci sia qualcosa anche in questa in questo proseguio di attività in questo proseguio di vita vediamo un po' andiamo con la prossima questo non è sempre farvi sorridere questo è il più noto john travolta che venne paragonato a questo illustre sconosciuto vissuto alla fine del 1800 scusate oppure andiamo anche al prossimo altro grandissimo attore nicolas cage con altro perfetto illustre sconosciuto sempre vissuto nella stessa epoca e uno dice ma che cosa gli è successo a questo è per caso veramente oppure andiamo avanti alla prossima famosissima questa foto enzo ferrari enzo ferrari da giovane che assomiglia in modo impressionante a mesuto sil famoso calciatore turco naturalizzato tedesco l'aspetto interessante è che ferrari è deceduto nel 1800 nel 1989 e mosil mesuto sil è nato nel 1989 e qui c'è qualcosa magari qualcuno che strizza l'occhio dall'altra parte e si vuole divertire adesso l'ultima della metto proprio per strapparmi in risata metti l'ultima chi lo sa magari questo noto giocatore inglese del milton squadra che milita nella serie nella premier league potrebbe avere qualche avo che arriva dall'isola di pasqua ma questo ovviamente è una battuta oppure qualcosa relativo invece alla al tempo che si che si ripete no vi ho detto prima che tutto è già accaduto e quindi ci potrebbero essere dei tracce dei tracce di reincarnazione o tracce di destini di vite che si intrecciano si accavallano si mettono uno sopra l'altro in modo inspiegabile vai con la prossima immagine per esempio questa foto che vedete in bianco e nero ritrae il presidente jones figger al kennedy sulla destra che sta stringendo la mano a un ragazzo quel ragazzo aveva il suo destino già assegnato era già accaduto perché era stato scelto tra 50 ragazzi di quel pullman siccome il presidente era in ritardo doveva stringere mani a più ragazzi ma non poteva e quindi gli incaricati di ogni pullman avevano scelto a caso ma il caso sappiamo con me non esiste aveva scelto a caso un ragazzo e questo ragazzo era incaricato di stringere la mano a johns figger al kennedy bene questo ragazzo che venne scelto si chiama bill clinton bill clinton quindi bill clinton sta stringendo la mano ha il suo futuro stesso andiamo della prossima foto che ci fa anche riflettere di quello che combina poi il tempo perché qui vediamo un bill clinton coi capelli brizzolati che parla con la vedova di johns figger al kennedy non solo ma a suo lato c'è anche john john kennedy che purtroppo anche lui farà una tragica fine in un volo aereo su un piccolo aereo raggiungendo un'isola di fronte a new york e quindi ecco che il destino si ripete il destino va avanti allora a questo punto io prima di parlare di amore carmico posso parlare ancora di amore carmico certo marco sono qua mi senti benissimo sì sì marco puoi continuare sono le 21 e 10 dopo passiamo alle domande che vedo che ne stanno arrivando sempre tante però per me va bene tu ci sei se per te va bene andiamo avanti andiamo avanti perché l'amore carmico la faccenda che riguarda anche perché marco poi vedo i commenti per cui tutti stanno scrivendo ti stanno seguendo e per me puoi andare avanti appena riusciamo che vedi che sei in fase di conclusione io passerei alle domande sennò ci teniamo qui fino alle 11 non c'è problema dai che scherzo proseguiamo sono uscito ufficialmente dal tempo e quindi io non ho più il tempo e chi sa vivere fuori dal tempo si dice vivi in ogni tempo e vi assicuro che è una è uno stato dimensionale meraviglioso e quindi vi consiglio a tutti di uscire tutti dal tempo se volete qualche consiglio a prova a proposito vi dico subito che potete tutti contattarmi alla mia mail scuola del destino chiocciolagmail.com così ve l'ho già detto scuola del destino chiocciolagmail.com e nei tempi appunto per parlare di tempo io comunque rispondo sempre a tutti allora l'amore carmico fa parte a questo punto di quello che voi avete seminato e avete generato ma attenzione l'amore carmico ha una differenza da quello che è il famoso esempio della mela rubata o cose di questo genere perché vedete l'amore carmico arriva il più delle volte per risolvere cercare di risolvere un problema di cui voi molte volte non eravate protagoniste ma come vi ho detto prima eravate vittime l'amore carmico più tipico che esiste e vi faccio l'esempio per farvi capire che cosa significa amore carmico è quello della donna che sceglie sempre l'uomo sbagliato porca miseria ma è possibile che tutte le volte io debba andarmi a scontrare con lo stesso tipo di stronzo scusate dicono sempre così quel cretino me l'aveva fatta su ma aveva corteggiato poi dopo dieci giorni e poi me lo sono sposato e poi questo e quell'altro perché perché c'è un bisogno irrisolto che io devo risolvere prima di avere un amore sano ed è l'amore carmico che si presenta quindi se io per esempio sono una ragazzina che dai 7 a 14 anni non ho vissuto la presenza di mio padre e io vi assicuro che la presenza di un padre per una bimba è determinante fondamentale per la sua vita non vi sto a spiegare adesso che cosa rappresenta la figura paterna perché è troppo lungo ma vi assicuro che è veramente importante e anche se la bambina non se ne rende conto tutto il suo essere se ne rende conto completamente e quindi siccome il padre per esempio rappresenta la sicurezza la protezione meno male che c'è papà l'assenza di questa figura che potrebbe essere anche un'assenza attenzione perché magari è via in viaggio sempre ma potrebbe essere anche sempre in casa ma è assente cioè non ti considero continuo litigare faccio i fatti miei non ti do una coccola non ti do un bacio non ti dico ti voglio bene pensate che c'è uno studio americano che dice che l'assenza paterna nei confronti dei ragazzini dai 7 ai 14 anni ha la stessa valenza identica dal punto di vista della reazione di una di una figura paterna violenta uguale quindi un padre che picchia che scudisce o fa di peggio ha la stessa valenza di un padre che non c'è pensate quanto è importante quindi cosa fa questa bambina questa bambina non trovando la protezione se la cerca da sé si autoprotegge e spicca fortemente la sua parte maschile cosa vuol dire che spicca fortemente la sua parte maschile vuol dire che sarà una donna che mano mano che cresce farà un lavoro maschile cercherà di comandare cercherà di avere una visione della vita fatta in un modo normalmente ha più amicizie maschili che femminili e cosa fa si va a cercare un uomo uomo quindi un uomo maschile invece di cercarsi un uomo femminile e quindi l'uomo maschile gli mette di fronte il fatto che gli dice ehi ma che cosa stai facendo ma chi hai scelto tu non dovevi scegliere me dove scegliere qualcun altro tu prima risolviti questo problema che hai col tuo padre poi vedrai che l'amore non sarà più karmico sarà un amore che può diventare fiamma gemella anima gemella ma prima devi risolverlo sapete qual è il problema che l'amore karmico può durare anche tutta una vita poi anche non risolverlo il problema perché poi nascono altre paure nascono altri timori a proposito aprieto una parentesi volete sapere se voi siete un'anima antica primo piccolo esercizio per sapere se tu sei un'anima antica domandati quante paure hai perché vedete una persona che è un'anima antica ha molte poche paure non si spaventa più di niente questo non gli fa paura quell'altro gli fa paura perché e se si domanda perché deve anche dire non lo so ma io non ho paura questa è la risposta perfetta sapete perché perché le ha già vissute è un'anima antica le ha già archiviate fa già parte dei suoi registi acascici e quindi ha sempre meno paura e in ultimo in ultimo ha meno paura della morte che non chiamo mai morte ma porta ha meno paura della porta che cosa c'è dietro quella porta ecco questo vuol dire essere un'anima antica allora a questo punto chiudo la parentesi e dico per risolvere un amore karmico devi prima risolvere la sofferenza che tu hai avuto quando eri piccola ci sono dei metodi ci sono delle tecniche che sono fantastiche e qui al ricercatore che parla perché le approvate e riprovate hanno sempre funzionato c'è sempre una soluzione per ogni cosa e ricordatevi ricordatevi sempre ogni giorno che vi alzate di avere le vostre motivazioni abbiate le vostre motivazioni per vivere scendete dal letto e abbiate le vostre motivazioni quali esse siano un consiglio non riponete le vostre motivazioni solamente nei vostri figli perché i figli o vostro marito perché i figli e vostro marito hanno il loro programma di vita di cui voi non potete conoscerne ogni parte vi è sempre una parte celata in ognuno di noi del nostro programma di vita una parte che non potremo mai prevedere e si chiama fato fatalità ma anche questa è un'altra porta che non possiamo aprire e andiamo avanti sull'amore carmico che vi dirà esattamente se voi siete nella fase giusta per risolverlo o meno e allora per parlare di amore carmico e con questa mi dedico poi alle domande vi faccio vedere questa foto meravigliosa magari qualcuno di voi conoscerà già la storia ma io vi assicuro che è veramente l'emblema secondo me dell'amore nel tempo fai vedere la figura numero 17 quello che vedete vai pure in campo pieno perché voglio farle vedere per bene queste queste quattro immagini allora la la foto di sinistra che vedete di quel ragazzo marco scusa in campo pieno non si può più di così non riusciamo però ti assicuro che si vede molto bene ok grazie allora quel ragazzo che vedete sulla sinistra si chiama adam schumann ed è un attore adam schumann quel ritratto che vedete di fianco a lui che parrebbe una praticamente uguali come due gocce d'acqua una somiglianza strepitosa è william shakespeare quindi adam schumann e william shakespeare una somiglianza impressionante soprattutto se voi pensate che questo è un dipinto ok shakespeare che è deceduto nel 1623 quasi 400 anni fa preparatevi ai brividi preparatevi ai brividi perché la ragazza che vedete di sotto è una bravissima attrice che si ann hathaway ripeto ann hathaway bellissima e bravissima ed è la compagna di adam schumann e come voi potrete notare ann hathaway assomiglia a quella donna che sta sotto william shakespeare anche qui sembrano due ritratti eppure quello è stato fatto 400 anni fa e non è una foto ma sapete voi come si chiama quella donna che è la compagna di shakespeare e la moglie di shakespeare che assomiglia incredibilmente alla compagna di adam schumann che si chiama ann hathaway quella donna si chiama ann hathaway anche lei si chiama ann hathaway ecco che a questo punto si svela magico il sonetto più utilizzato dagli uomini nei secoli nei secoli nei secoli per dichiarare un amore puro un amore romantico alla loro cara consorte che diceva più o meno una vita è troppo breve perché io possa amarti prometto di amarti anche nella prossima ve lo ricordate questo sonetto e guardate che cosa accade arrivano questa coppia meravigliosa che sono le gocce d'acqua di shakespeare e sua moglie che si chiama in modo identico quindi consiglio che vi do lasciatevi trasportare sempre dalle ali della magia dalle ali della vita che vi porteranno sempre comunque sorprese per voi ricordatevelo per voi ricordatevi ancora una cosa che voi avete solamente un problema un nemico no non siete voi stessi sono gli altri sono sempre gli altri sceglietevi bene i vostri compagni di viaggio sceglietevi bene chi far entrare sul vagone del vostro treno della vostra vita in quel percorso sulle rotaie che si chiama destino che si chiama programma sceglietevi bene chi far entrare nel vostro scompartimento e abbiate il coraggio se quella persona non va bene di farla uscire dallo scompartimento perché la vostra vita è sacra sacra e solamente voi siete i padroni non sono padroni i sensi di colpa i condizionamenti le paure le ansie solamente voi ok possiamo passare domande bene marco allora intanto voglio ringraziarti di cuore per questo prezioso intervento e ascoltarti è stato davvero interessante e ispirante è stato un po come un viaggio affascinante alla scoperta della legge del karma per cui grazie mille di questo tuo primo intervento senti prima di lasciare spazio le domande volevo ricordare che il libro la legge del karma questo qua se volete lo potete acquistare sul nostro sito il giardino dei libri voglio anche dirvi che oltre a questo libro sul giardino dei libri trovate anche gli altri libri di marco io qui ne ho un po questi qua giusto marco esempio a me è piaciuto tantissimo le coincidenze che cambiano la vita questo libro qua che è molto bello riconoscere e cogliere i segni del destino eccolo qua sempre sul giardino dei libri poi vabbè c'è il perdono presenza positive anche questo molto interessante noi siamo qui per caso e infine il tuo ultimo libro bestseller la legge del karma bene ora passare alle domande ne sono arrivate tante come sempre io dico quando sono dietro le quinte ascolto ascoltato te e poi leggevo un po le domande per per potertele fare e essere già pronta in questo in queste domande che io ho letto ci sono marco alcune persone che non è proprio chiaro il concetto del debito credito cioè se abbiamo avuto tanto significa che nella prossima vita dobbiamo avere zero tipo esempio daniela domanda ad esempio ma se ci sono ma se sono in debito è perché ho fatto buone azioni in passato essere in credito è perché mi sono comportata male in passato sono delle bellissime domande alle quali rispondo il più semplicemente possibile innanzitutto partiamo da un concetto che non esiste bene e male perché quello che è bene per te potrebbe essere male per me queste proprio una legge di causa ed effetto quindi c'è un detto che dice orientale colui che nasce cieco sicuramente una vita precedente ne aveva cercati quindi è sempre una legge di ritorno non è una questione di bene o di male quindi se tu sei in credito è perché tu hai sicuramente un karma dove hai pagato molto ea questo punto scusate il credito vuol dire che tu sei hai sofferto tanto e quindi a questo punto sei in credito con la vita e quindi devi ricevere quindi sei nella curva ascendente certo che se tu hai pagato tanto vuol dire che precedentemente qual è il punto fondamentale questa la chiave che vado a rispondere anche all'altra domanda è che se tu continui a ricevere non dai crei un karma che poi ti si appesantisce perché ci vuole un equilibrio quindi quando tu continui a ricevere continua ricevere e quindi diventi una forma egoica l'egoista è quello che riceve riceve e non da non diventa altruista ecco che tu generi un karma che poi si va a scatenare nei tempi e metodi che lui decide e possono essere anche più spaventevoli perché una persona egoista molte volte per esempio finisce la vita prima del previsto oppure finisce su una carrozzella oppure gli capita qualcosa perché perché anche questa del dare ricevere pensate venuto in mente che c'è una grande entità di nome campus che appare al cerchio firenze 77 che disse a roberto setti il fondatore del cerchio delle frasi che mi hanno fatto venire in mente quello che voi state dicendo adesso pensate che lui disse la bellezza di quasi 50 anni fa queste frasi riflettete molto su quello che sto per dirvi non è vero che solo chi ruba sia ladro lo è anche chi riceve senza dare quindi tu cosa fai generi un karma che a questo punto non essendoti sdebitato vai a pagare non è vero che sia spergiuro solo chi giura il falso i taci e sampe sapendo e chi nasconde la verità con un linguaggio ambiguo e altrettanto spergiuro e propagatore dell'errore e di ciò poi dovrà renderne conto anche questa è una verità karmicamente molto importante non è vero che sia più importante l'azione dell'intenzione ne ho parlato prima perché dall'intenzione si conosce l'uomo e sempre dall'intenzione che si conosce l'uomo non è vero che il bene sia opera di dio e il male opera dell'uomo tutto tutto fa parte di un grande piano divino in cui non v'è posto per l'errore e l'imperfezione grazie marco passiamo con la domanda di raffaella mi sembra che il karma sia una condanna punitiva come la legge del vecchio testamento mi sento condannata chi è senza peccato scagli la prima pietra che ne pensa io purtroppo qui non me ne vogliate ma io non credo ai peccati e quindi sinceramente siamo sempre nella causa nell'effetto nella verità di ognuno quindi non è chi è senza peccato è quello che tu semini quello che tu raccogli quindi anche magari famoso detto male non fare paura non avere quindi pensate che l'altruismo è la moneta d'oro di dio quindi per esempio se voi vi comportate male in certe situazioni ma con la mano sinistra e con la mano destra siete di cuore non in con interesse attenzione ma di cuore siete altruisti voi state già riequilibrando quello che avete combinato cioè dovete trovare dentro di voi con il cuore delle azioni per recuperare certi comportamenti che sapete di aver fatto e aver creato qualcosa che non andava bene che vi potrebbe dar fastidio e queste cose dovete farle voi intimamente non è che dovete andare a comunicare ad essa manca c'è un detto che dice che il perfetto valore di un essere umano e dico perfetto sta nel compiere grandi gesti di altruismo e non dire mai nulla a nessuno questo è il perfetto valore quindi voi e impitevi di quello che fate ma non dite niente a nessuno godete del gesto meraviglioso che avete fatto non dite niente a nessuno c'è una notizia sul cuore della sera di qualche anno fa che diceva di un samaritano sconosciuto che non ha voluto lasciare le sue generalità e che ha donato un suo rene a una persona perfettamente sconosciuta lui non un parente gli ha salvato la vita e non ha voluto che si pubblicassero il suo nome e cognome questo è il perfetto valore mi tolgo un rene per sbagliare la vita chissà questo cosa doveva sdebitarvi per rispondere a raffaella capisci ma con questo lui ha generato un equilibrio pazzesco e solo tu lo puoi sapere quanto è ricevuto e quanto ti devi sdebitare bene allora passiamo con etra domanda si può cambiare il proprio karma quando ci si ravvede dei propri errori è certo che si può ma non è solamente ravvedersi ma è anche fare cioè il primo punto io mi ravvedo ok il secondo punto è io faccio il secondo punto è io agisco perché il primo mi rendo conto poi mi devo muovere non basta solamente dire è sì mi sono ravveduta ho sbagliato e fa qualcosa agisce fai del bene tra l'altro io adesso a questo punto dato che sono tutti preoccupati del loro karma io farei il secondo test che molto anche perché siamo già a un'ora passata e quindi vi prego di tirare fuori un'altra volta foglio e penna e facciamo il test adesso dovete scrivere per piacere incolonnato queste cinque parole lasciate un po un po di spazio sulla sulla parte sinistra della del foglio e scrivete queste cinque parole mai di rado a volte spesso molto spesso poi sotto scrivete totale guardatele cinque parole mai di rado a volte spesso molto spesso ok adesso di fianco adesso io vi leggerò delle frasi e ogni volta che ho finito la frase voi dovete mettere di fianco alla parola che voi sceglierete una una crocetta quindi per esempio se io adesso dico una frase e voi dite sia a me capita a volte metterete una crocetta di fianco a volte ok siete pronti sono felice a prescindere dal denaro che ho mai di rado a volte spesso molto spesso cercate di essere onesti con voi stessi cercate di essere onesti con voi stessi seconda la mia felicità dipende da me stesso e non dagli altri mai di rado a volte spesso molto spesso mettete una crocetta dove ritenete di avere questa risposta terza frase la mattina quando mi sveglio sono contento del nuovo giorno che sta per iniziare a prescindere dai problemi a cui andrò incontro mai di rado a volte spesso molto spesso se qualcuno mi critica o mi giudica la quarta questa mi arrabbio o ci rimango male se qualcuno mi critica o mi giudica mi arrabbio e ci rimango ci rimango male mai di rado a volte spesso molto spesso voglio sapere chi ero in una vita precedente assolutamente mai di rado a volte spesso molto spesso sono consapevole che le mie azioni pensieri emozioni hanno sempre una conseguenza ogni giorno della mia vita mai di rado a volte spesso molto spesso mi piace la vita che sto vivendo oggi mi piace mai di rado a volte spesso molto spesso siamo all'ottava quando mi ammalo conosco sempre il motivo il messaggio che la malattia mi sta trasmettendo mai di rado a volte spesso molto spesso mai di rado a volte spesso nona sono consapevole dei condizionamenti che ho ricevuto durante la mia giovinezza sono consapevole dei condizionamenti che ho ricevuto durante la mia giovinezza mai di rado a volte spesso molto spesso ho capito la decima ho capito qual è il mio compito in questa vita che poi tra parentesi potrebbe essere anche quella di espiare ma comunque ho capito qual è il mio compito in questa vita mai di rado a volte spesso molto spesso ultime due undicesima mi fermo sempre quando sono in auto e qualcuno è sulle strisce pedonali che sta per attraversare la strada mai di di rado a volte spesso molto spesso ultima dodicesima ritengo di essere una persona altruista ogni giorno della mia vita mai di rado a volte spesso molto spesso adesso adesso prendete e mettete 1 di fianco a mai 2 di fianco a di rado 3 di fianco a volte 4 di fianco a spesso 5 di fianco a molto spesso questo è il valore di ogni parola ovviamente vedete quante crocette avete messo di fianco a ogni parola quindi se voi avete scritto tre volte tre crocette di fianco a di rado vuol dire che di rado vale 6 punti 3 per 2 se avete messo quattro volte crocette di fianco a spesso spesso vale quattro punti sono quattro per quattro 16 punti quindi qui avrete cinque piccoli totali e poi avrete un grande totale cioè fate cinque totali di ogni parola e un grande totale di tutto spero di essere stato abbastanza chiaro ma penso di sì e la risposta che vi sto per dare una volta che avete fatto questo conteggio attenzione se facendo tutti i conteggi hai ottenuto più di 35 punti ripeto più di 35 punti sei in una fase di equilibrio carmico sei in una fase di equilibrio carmico quindi stai viaggiando con una giusta equilibratura del tuo dare e ricevere perché alla fine poi il karma è questo dare e ricevere se hai fatto più di 35 punti se hai fatto invece meno di 35 punti sei ancora lavorando sul peso carmico quindi hai ancora da pagare pesi carmici ok spero che i vostri punteggi siano tutti sopra i 35 e 40 perché vuol dire che siete persone evolute felici e amorevoli se magari qualcuno te lo scrive sarebbe simpatico e spero che soprattutto che questo piccolo test vi abbia fatto un po' così stare bene in compagnia ma è un test studiato da un gruppo di psicologi non è una cosetta così da fare grazie arrivederci ok allora andiamo avanti con le prossime domande allora io come ti dicevo prima ci sono tante tante domande vorrei sempre accontentare tutti e siccome ce ne sono tante per quanto possibile riesci a dare delle risposte un pochino più veloce in maniera che così accontentiamo un po' più di persone certo ok allora Laura domanda cosa si cosa ci dice del karma collettivo il karma collettivo innanzitutto vedo che continuano ad arrivarmi scusate richieste di amicizia su facebook io chiedo venia ma è da mo che non posso più accettare amicizie su facebook ho una pagina ufficiale che si chiama sempre scuola del destino andate lì oppure andate su telegram no questo dopo questo dopo oppure andate su telegram e mi trovate marco cesati cassin canale pubblico ripeto telegram marco cesati cassin canale pubblico e io molte mattine mi hanno dei vocali molto intriganti alla mattina presto per andare a scuola a lavoro dovunque voi andiate che vi faranno un po' sorridere un po' riflettere e quindi potete entrare in contatto con me in questo chiudo la parentesi perché vedo che continuano ad arrivare richieste di amicizia ma io non vi posso andate nelle pagine pubbliche perché lì è più semplice allora esiste come il karma collettivo il karma collettivo esiste su tutti i profili e tutte le modalità esiste un karma nella nazione per dire che quindi è composto da una collettività di milioni di persone voi immaginate il karma collettivo della germania ai tempi della seconda guerra mondiale o immaginate il karma collettivo del popolo ebreo o immaginate il karma collettivo anche di un paese qual è il come si fa a generare un karma collettivo è quando tutte le persone cominciano a pensare allo stesso modo e agiscono allo stesso modo quindi c'è da riflettere bene se queste azioni che compiono siano verso il bene o verso il male a questo punto il karma che tu hai generato ti tornerà per forza contro si chiamano per esempio nel negativo le egregora le egregora è un termine che dice immaginate che sia una sorta di nube nera che si forma che è la conseguenza di tutte perché il pensiero energia e questo non sono io a dirlo ma è la fisica quantistica sono tutte le azioni che compiono certe persone in una certa direzione per esempio verso il male che genera un egregora e che è spaventosa che ti si può ritorcere contro quindi esiste assolutamente il karma collettivo assolutamente sì bene e senti un prima di passare alla prossima domanda ci hanno scritto pochi sono sotto ai 36 a proposito dell'esercizio di prima molti sono molto alti 46 54 44 41 e via 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 te lo volevo dire perché ci stanno scrivendo in chat ok molto bello ma non avevo dubbio sarebbero qui a guardare il giardino dei libri scusami o che ne so quindi sono assolutamente d'accordo su questo ok io continuo con Adriana è una novità pazzesca perché vedete tutti devono avere dei sogni tutti devono avere dei progetti anch'io ho dei sogni anch'io ho dei progetti e vi assicuro che i sogni devono essere proprio irraggiungibili perché se non sono irraggiungibili ma che ovviamente poi devi cercare di raggiungerli che se no che sogno è non è un sogno io ho un sogno pazzesco enorme che alla fine di questo webinar vi voglio svelare non l'ho detto neanche a te Rosa quindi no infatti ti sto guardando perché sono curiosa voglio saperlo e se non lo sveli ti chiederò alla fine di dircelo è un sogno enorme fattibile ma ovviamente a cui bisogna dedicare tanta tanta fatica tanta energia e ovviamente crederci ok andiamo avanti con le domande bene allora ero rimasta con Adriana Adriana ti domanda o chiede insomma io ho perso la mia cagnolina per malattia dopo pochi giorni ho notato che il cucciolo di sette mesi che vive con noi ha preso le sembianze e i modi di fare della cagnolina morta può essere una rincarnazione? beh era già vivo il cane o no? come me lo leggi mi sembra che era già vivo è un cucciolo penso il cucciolo penso forse che è il cucciolo insomma la mamma sarà morta penso che sia il figlio o la figlia quindi due anime in uno stesso spazio è un po' difficile quello che ti posso assicurare è che i nostri cari amici pelosi sono anime che tra l'altro nell'altra dimensione diventano insegnanti agli esseri umani questo per dirvi come funziona il meccanismo all'inverso sono in cattedra si dice e io ho avuto più di un'esperienza di apparizione della mia amata cagnolina perla quando dico apparizione non è una pareidolia non è sembrerebbe era e l'ho anche documentata e fotografata quindi loro ci sono nell'altra dimensione quando sono in questa dimensione sono notoriamente canali di comunicazione di nostri cari cioè quindi non è che la vostra cagnolina è vostra nonna però vostra nonna può comunicare attraverso la cagnolina certi momenti in cui noi magari siamo in un momento di preoccupazione quando guardiamo la nostra cagnolina diciamo ma come fai a guardarmi così solamente tu mi capisci potrebbe essere vostra nonna che agisce quindi sicuramente può essere io poi non do mai limite alle possibilità ma che diventi la cucciola di sette mesi la mamma stessa mi sembra un po' difficile soprattutto se poi c'è la mamma ci saranno anche delle ovviamente è qui e viene fuori San Tommaso quindi ci devono essere sicuramente anche delle assomiglianze genetiche di DNA, di comportamento, di carattere perché esiste anche questo nei cani quindi è da studiare un pochino di più mi spiace non potete dare un'altra risposta ma la certezza che ti posso dare è che loro ci sono ma è proprio qualcosa di sconvolgente, di meraviglioso ho tenuto una serie di conferenze che si chiamava Cani e gatti in paradiso talmente avevo raccolto tante prove infatti Adriana dice sì, era vivo insieme alla cagnolina no, quindi per me non è assolutamente ok, allora passiamo con Anna di volta in volta fare ecco, do questa possibilità che non è mai accaduta potrebbe di volta in volta come può fare la nonna potrebbe farlo anche lei quello sì, quello sì bene Anna domanda come spiegare in termini di karma quando accade in un evento catastrofico improvviso come un incidente aereo o un attentato terroristico quando una grande quantità di persone apparentemente non unite da nessun legame incontrano la morte tutti insieme nello stesso momento? e io devo risponderti in tre parole no vabbè sono domande comunque molto importanti molto allora grazie a tutto vai tranquillo dove noi viviamo una dimensione duale quindi la parte che a noi non piace la parte oscura il nero il bianco e il nero mettiamo che il bianco sia la parte bella e il nero sia la parte brutta lo yin e lo yang sono inscindibili la dimensione duale significa che le due parti devono coesistere tu non puoi sapere il significato della parola bene se non c'è anche il male quindi le due cose sono fondamentali per comprendere ecco che le disgrazie che accadono hanno una funzione dentro l'ordine delle cose dentro l'ordine delle cose l'ha detto anche Campis nell'ultima frase anche l'imperfezione l'apparente imperfezione fa parte dell'ordine così è si dice e così deve essere ma qui abbiamo un aspetto che tu hai toccato e che mi fai portare alla prossima slide che è la numero 18 e facciamola vedere che viene chiamata il cigno nero ovvero quando arriva qualcosa di imprevisto di imprevisto che tu non puoi assolutamente governare il cigno nero è una diciamo una forma di 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 fatalità che noi possiamo chiamare perché cigno nero perché vedete i cigni sono degli esseri meravigliosi bianchi si schiudono a migliaia e migliaia e migliaia e migliaia e vengono fuori dei meravigliosi cigni bianchi ma una volta ogni migliaia e migliaia e migliaia si schiude e ne viene fuori uno nero non è un caso è previsto che ogni x venga fuori uno nero ma qual è il punto è che tu non lo puoi prevedere cioè tu sai che arriverà il cigno nero ma non sai quando e dove e come non lo sai non lo puoi prevedere ma io ti assicuro che il cigno nero nella vita umana arriva il più delle volte per intemperanze per errori per stress per scusate la parola forte stupro della vita stessa che fa l'uomo anche a livello per esempio della natura e che crea il cigno nero quando meno te l'aspetti e tu devi far fronte a questo cigno nero lo devi far fronte e il cigno nero è un grande maestro per esempio un cigno nero che accade nel mondo della finanza è quando nel 2008 ci fu la crisi globale del mondo della finanza ma cosa accade poi quando arriva un cigno nero che questa è una regola aurea che sul 100% il 90% viene distrutto perde accadono le cose più incredibili e un 10% ci guadagna ci vive ci sorride sopra c'è sempre anche qui una dualità e qui ho preso un esempio molto direi che fa sorridere quasi che è accaduto durante le olimpiadi di Salt Lake City nel 2002 vai alla prossima slide vedete qui c'è un gruppo siamo alla finale di Short Track finale olimpia di Short Track e c'è un ragazzo australiano che si chiama Bradbury che non avrebbe mai vinto la medaglia ma non sarebbe mai arrivato neanche nei primi 5 sapete quelli che arrivano in finale non siano come siano arrivati ma che non hanno nessuna chance ebbene apparve il cigno nero in quella finalissima di Short Track a Salt Lake City nel 2002 non si sa perché uno scivolò e si portò dietro tutti gli altri non ne rimase uno in piedi e quindi signor Bradbury vinse la medaglia d'oro semplicemente perché era l'unico che non aveva preso il gruppo che era caduto ed era rimasto in piedi vai alla prossima slide eccolo qua che sorride meraviglioso medaglia d'oro Short Track non avrebbe mai vinto ecco lui l'esempio in piccolo del 100% di una gara 90% a terra 10% negono e questo è in ogni cosa della vita c'è sempre qualcuno che poi si diventa meritevole che si conquista diciamo la gloria la parte bella della disgrazia possiamo dire in questo modo ma la parte disgrazia è comunque prevista non può non accadere la canzone Imagine di John Lennon è un'utopia perché il mondo senza guerre è impossibile perché non potremmo dire la parola pace quindi la guerra e vi dico anche purtroppo così come l'omicidio così come qualsiasi altro fatto fa parte dell'ordine delle cose questo è e ogni anima vede prima di arrivare il percorso e la permanenza che farà nella vita grazie Marco per queste risposte interessantissime senti ti voglio fare una domanda da parte di Lorenzo sono single sono stato con pochissime persone e non sono mai stato con persone che ho amato davvero seppure solo platonicamente è amore carmico aver incontrato solo chi mi ha rifiutato e chi non amavo con tutto me stesso caro Lorenzo è una bellissima domanda soprattutto data da un uomo da un ragazzo perché perché tu hai paura di amare tu hai paura di amare hai una paura terribile e io sono convinto al 300% e scusa la poca umiltà che questa tua paura nasce dai 7-14-14-21 dovrei fare con te un one to one a conoscere la tua vita a farti una mitragliata di domande e ti darei la risposta e soprattutto le soluzioni però tu devi prima di tutto cancellare la paura di amare e di essere amato e quindi devi tornare nelle tue stanze del passato mettere ordine ripulire tutto chiudere quelle stanze una volta per tutto e vedrai che non avrai più paura e attrarrai perché è sempre una vibrazione la vibrazione dominante in questo momento tua è di paura quando tu cambierai vibrazione non avrai più paura attrarrai le persone giuste questo è quello che vuol dire e ricordati una cosa non c'è mai limite di tempo io sono uscito dal tempo ti può accadere come quando vuoi come quando vuoi non devi avere 30 anni per fare una cosa puoi averne anche 50 o 20 oppure non avere tempo Linda ti chiede cosa ne pensa? il karma del perdono eh Linda sei una grande il karma del perdono ti ho scritto un libro si intitola il per trattino dono è un romanzo pazzesco preso da una storia realmente accaduta pare ci faranno un film ne hanno preso un gruppo di sceneggiatori questo per dirti che il perdono è la chiave di tutto quindi attraverso il perdono tu liberi soprattutto a livello familiare dei carmi familiari pesantissimi che diversamente tu non riusciresti a risolvere ricordatevi che a cascata nelle famiglie si portano avanti dei disastri soprattutto a livello ereditario a livello di salute a livello di soldi che sono difficilmente interrompibili il perdono è una medicina meravigliosa e io ho ideato un rito del perdono fantastico insieme a Jodorowsky e una sciamana dei boschi di quattro generazioni che non ha mai fallito veramente eccezionale durissimo da fare durissimo ma definitivo risolutivo alla fine starete da Dio quindi sì la risposta è sì il perdono è meraviglioso Elena domanda le persone che frequenti possono influenzare il tuo karma? assolutamente sì scegliti bene l'ho detto prima scegliti bene i tuoi compagni di viaggio e elimina dalla tua vita non in senso fisico elimina dalla tua vita tutte le persone negative le persone negative non devono più avere a che fare con te quelle che si lamentano continuamente quelle che vivono di invidia quelle che non va mai bene nulla queste persone devono stare lontanata e tu cerca di avere intorno a te positività positività e se certe persone non puoi farne a meno tipo la suocera o peggio se ce l'hai in casa cerca di schermarti cerca di avere sempre un pensiero una reazione positiva perché questi sono i principali fautori del tuo programma di vita quindi assolutamente sì scegliti bene i tuoi compagni di viaggio fondamentale allora Marco ti faccio questa domanda da parte di Graziella sono malata sin da bambina ho avuto interventi chirurgici per problematiche che hanno portato a miglior vita la nonna paterna e oggi ho una malattia autoimmune degenerativa invalidante che ho portato a miglior vita la sorella di mio padre ho dato il 5 alla morte più di una volta ma sono ancora qui amo vivere e riesco sempre scamparla esiste un karma familiare? se sì è possibile modificarlo e migliorarlo per non trasmetterlo alle generazioni future? innanzitutto io mi inchino alla tua forza a quello che hai scritto e alla tua capacità di reazione posso dirti anche se non lo sai sei un'anima evoluta per quello che hai scritto posso dirti che hai scelto questo tipo di percorso perché l'anima deve scegliere tutti i tipi di percorsi e quelli più duri sono per quelle che hanno bisogno di andare avanti e non indietro quindi potrei dirti anche in che livello sei ma non è questo la serata e posso dirti sì che esiste il modo di interrompere il karma familiare per far sì anche se c'è ovviamente un'eredità genetica se ci può essere una trasmissione genetica dei geni c'è da andare a vedere altre vicende ma a livello energetico a livello di birrisonanza si può assolutamente migliorare la tua soluzione scrivimi a scuola del destino chiocciola gmail.com e cercherò di aiutarti in tutti i miei modi possibili comunque la risposta è sì può interrompere il karma familiare assolutamente grazie Marco per questa risposta ci tenevo a farla questa domanda da parte di Graziella e mi ha anche emozionato devo dire la verità allora continuiamo con Emanuela ci sono segni del karma come le coincidenze numeriche? no andiamo a fare un melange che ha poco a che vedere sono due binari non possono stare uno sopra l'altro assolutamente le coincidenze numeriche poi il sottoscritto sono anni che predica che dice non personalizzate troppo le coincidenze numeriche non le fate diventare troppo un'ossessione quelli che vedono continuamente le 11 e 11 o gli stessi numeri io dico sempre che chi vede molto spesso i numeri doppi che si ripetono che diventano un'ossessione è perché tu hai bisogno di sincronizzarti nel momento in cui tu sei sincronizzato con l'universo con la tua esistenza i numeri scompaiono non li vedrai più non ne avrai più bisogno non diventerà un'ossessione se invece tu ritieni che hai fatto una vita dove un certo numero ti ha sempre accompagnato allora diventa ricercatore come me ti compri un taccuino ci metti sopra la data oggi alle ore 8 e 15 ho visto quella tarca che davanti a me aveva quei due numeri identici oggi pomeriggio mi hai ripetuto guardando quel portone guardando cioè fate una cronologia e una ricerca fatta per bene e trovate le risposte perché quando voi cominciate a dire ah io vedo vedo la gente ingigantisce fatevi una cronologia reale di quello che vi accade e allora vedrete quante volte si ripete che numeri sono in che contesti cosa stavate pensando cioè è troppo vasta la questione Paoli che era uno dei padri della fisica quantistica era ossessionato dal 137 lui era a 10 anni che era convinto se lo sognava di notte questo 137 lo vedeva dappertutto e quindi aveva obbligato tutta la sua squadra di scienziati nelle varie ricerche a mettere il 137 il bello è che le formule andavano avanti non è che si fermavano e quindi lui era entusiasta vedete che c'è ragione vedete che c'è ragione 137 137 137 e poi arrivano alla fine e crollava tutto e poi tornava ma non è possibile questo 137 perché aveva un sogno così a 55 anni si trovava a Zurigo si sente poco bene la figlia lo accompagna in una clinica privata per fare degli accertamenti e lo ricoverano dentro la stanza numero 137 due giorni dopo è morto capite? capite cosa vuol dire un conto è un sogno premonitivo un aggancio ai tuoi registri un qualcosa che ti arriva costantemente dentro la tua testa un conto è che tu continui a guardare il telefono le targhe le cose e sei tu che lo cerchi se no non lo vedresti sei tu che lo cerchi capite cosa voglio dire? ecco anche oggi l'ho visto quindi no la risposta è no le coincidenze numeriche non hanno a che fare col caso ok Marco ti faccio una domanda simile da parte di Rosalba Leonite e Alessandra Rosalba ti domanda si può riconoscere un incontro carmico? e Alessandra dice come si fa a risolvere un amore carmico? quali sono le tecniche? anche qua mi darai un altro webinar sono brava a far scegliere le domande te le faccio tutte l'amore carmico l'ho appena detto lo riconosci perché è il tuo specchio l'amore carmico è quando tu incontri l'uomo e dici cavolo ma questo è uguale a me me ne sono scelto uno che è il bello che all'inizio tu dici cavolo che figata è tutto uguale a me gli piacciono le stesse cose fa le stesse cose poi alla fine ti rendi conto che magari quando ci vai a vivere insieme che avere tutte esattamente le stesse cose comincerà ad essere un problema perché dovete compensarvi uno deve fare la spina e l'altro deve fare i buchi dove entra la spina se no fate le scintille capite quindi l'amore carmico lo riconosci in quel senso voi vi dovete completare non paragonare competere la competizione è un amore carmico dove c'è competizione dove c'è incomprensione a causa della competizione io ho bisogno del mio spazio tu hai bisogno del tuo spazio tu non mi capisci tutto questo è amore carmico capite perché l'amore vero quello non carmico quindi quello che non è più necessario per risolvere si fonde in una sola parola che è libertà libertà il vero amore quando la tua libertà si fonde nella libertà dell'altro cosa vuol dire la libertà dell'altro? vi ricordate il film Perfetti Sconosciuti di Genovese? vuol dire che io non ho bisogno di mettere i codici e i controcodici io sono libero così libero che puoi fare quello che vuoi col mio telefono mi sento libero non mi sento ingabbiato a delle costrizioni da nascondere ecco dov'è il vero amore capite? quindi cercate di comprensare la seconda domanda non me la ricordo più quella di Alessandra parlava sempre dell'amore carmico un po' quello che tu hai risposto ora no ma ha detto come si può guarire no? cos'è che aveva chiesto? aspetta che me la sono persa perché sono andata avanti come si può guarire dall'amore dall'amore carmico dall'amore carmico? sì un amore carmico per non ripetere e non continuare con lo stesso tipo di perché ne ho tanto scusa Marco ne ho tanto e adesso stavo ci stavo facendo quella di Simona comunque va bene è quella un amore carmico per non ripetere continuamente sempre lo stesso errore devi tornare alle tue stanze nel passato questa è la cura devi cambiare tu non puoi cambiare lui non lo cambierai mai lui non lo cambierai mai devi cambiare te e allora cambierai lui ma cambierai lui nel senso che lo cambi ne prendi un altro erano l'ho ritrovata Marco erano per quanto riguarda le tecniche se c'erano delle tecniche la tecnica è tornare nelle tue stanze del passato andare a rimettere a posto le tue sofferenze i tuoi dolori i tuoi pianti le tue incomprensioni dai 0 ai 7 dai 7 ai 14 dai 14 ai 21 c'è un metodo infallibile però questa non è la seduta per fare tra parentesi adesso siamo arrivati anche al momento per dare questa sorpresa perché l'ho decisa ti posso fare un'ultima domanda prima? facciamo l'ultima ce ne sono tante tante però purtroppo sono già alle 22 l'ultima che ho scelto è da parte di Simona che chiede se si fa del male in maniera non intenzionale come ad esempio è il caso di un soldato in guerra costretto a uccidere ci si attira comunque un debito karmico? sì ma è un debito karmico di nazione non più di individuo perché qui è la nazione che agisce quindi è un debito karmico nazionale che quindi viene spalmato su tutta la popolazione non sull'individuo che ha sparato è una bellissima domanda che fai perché vedete questo tipo di persone per esempio sullo sbarco in Normandia il 6 giugno 1944 su quei chilometri di spiagge ci sono ancora migliaia e migliaia di ragazzi che vagano con il fucile in mano corti astrati perché loro non hanno accettato di andare e sbarcare là sono stati costretti e quindi questo peso karmico lì lo va a avvertire e quando loro fatto tutto il viaggio andati verso la luce e tornati su questa vita andranno a recuperare andranno a recuperare quindi saranno in credito e andranno a fare una vita meravigliosa per questo che hanno ricevuto questo non è questo è nel caso della persona singola se no è un karma nazionale distribuito su tutta la nazione bene vorrei fare questa notizia che è un regalo per tutti voi che siete nel webinar io l'otto e il nove maggio ho il coraggio perché è una cosa molto nuova di creare un workshop potentissimo se avete capito sono un ricercatore che si intitola vita dopo la vita sono due giorni online potentissimi pienissimi di sorprese di documentazioni di rendiconti di persone con dei doni incredibili che vi farò vedere e vi metterò la prova l'obiettivo l'obiettivo di queste due giorni è di farvi conoscere da un punto di vista laico e non religioso delle prove inconfutabili a cosa serve sapere che cosa ci aspetta dall'altra parte per vivere meglio di qui perché ricordatevi che la paura la paura è dettata dall'ignoranza dei fatti quindi voi conoscerete e potrete e allora solo per il webinar del giardino dei libri potete andare su questo sito www.scuoladelcestino.it barra corso solo fino a lunedì c'è un prezzo veramente stracciato ma io sono contento di averli tutti qua con me e partecipare a questa due giorni che tra l'altro sarà anche registrata e la potrete vedere solo per quelli che si sono iscritti anche registrata da dopo se non siete potuti stare presenti tutte e due le giornate veramente unica ma soprattutto nuova è qualcosa di nuovo potentissimo ci sarà anche una sorpresa durante la sera insomma un due giorni prima me 8 e 9 maggio approfittatene perché è una condizione veramente quasi regalata che scade lunedì non mi piace parlare di soldi quindi andatevelo a vedere voi sul sito e iscrivetevi al più presto perché veramente ne vale la pena potrebbe essere anche un regalo per qualche amico o per qualcuno infatti Marco ci chiedono il link noi lo stiamo già mettendo il link in chat mi fa piacere promuovere questo tuo corso che organizzerai in diretta streaming giusto? l'8 e il 9 maggio e poi alcune persone chiedevano anche se qui ti possono contattare sì giusto? a questa mail sulla mia mail scuoladeldestino chiocciolagmail.com benissimo per cui ci siamo se per caso qualcuno vuole informazioni domani le nostre ragazze dell'assistenza vi daranno tutte le informazioni possibili inviandovi ancora il link eccetera allora Marco intanto io ti voglio ringraziare per tutte le risposte ci scusiamo se non siamo riusciti ad accontentare tutti i partecipanti ma le domande erano veramente tantissime e abbiamo solo poco più di un'ora a disposizione che poi abbiamo anche sfiorato tantissimo e allora questa questa tua prima dicevi no appunto del tuo sogno sei pronta io sono pronta perché mi hai parlato di questo di questo seminario ma non credo che sia questo allora io voglio voglio sapere ma anche i partecipanti che scrivono qual è il tuo sogno sono curiosa io e tutti quelli che ti ascoltano mio sogno che si avvererà è quello di aprire a Ibiza un centro mondiale di ricerca sulle prove dell'esistenza della vita dopo la vita ripeto aprire a Ibiza entro il 2023 un centro mondiale di ricerca delle prove dell'esistenza della vita dopo la vita questo progetto lo sto seguendo io e Sonia Benassi quella che io deputo autrice del libro Io Medium non solo ma pubblicato e edito da Il Pertino dei Libri con Trigono e questa meravigliosa Medium di una potenza inaudita verrà con me a Ibiza per fare questa nuova avventura fantastica si chiamerà Terra di Luce sarà un enorme ergo con sale conferenze e sale prove verranno da tutto il mondo per fare sperimentazioni per imparare per conoscere perché questa è la nuova era la nuova era è ora il rapporto diretto con la fonte rapporto diretto io credo fermamente in questo nell'uno diretto senza più intercessioni e quindi centro mondiale a Ibiza che è un territorio di luce non è un territorio di discoteche quello è lo stereotipo è un territorio meraviglioso di spiagge di verde di natura ma soprattutto di luce e quindi la porterò la mia famiglia e aprirò questo centro è la prima volta che lo dico e sono molto emozionato guarda Marco mi fa emozionare anche a me io appena ci sarà questo questo bellissimo progetto e si potrà posso venirti a trovare comunque veramente vi aspetto l'8 e 9 maggio staremo tutti insieme io sono veramente grato come sempre a Rosa di questa occasione vi ricordo che abbiamo iniziato ma poi l'abbiamo un po' di tralasciato dove è il libro eccolo qua è questo andate sul giardino dei libri e ovviamente ordinatelo io l'ho voluto far uscire appositamente in versione economica quindi non c'è la copertina rigida è uscito appositamente a 9,90 e vi assicuro che meno di così non si poteva fare hai visto la fatica che c'è dietro è un libro che potete leggere amabilmente dove volete e soprattutto è un grazie in diretto chiediamo a Rosa e a tutto quello che fa per la conoscenza per l'evoluzione per il percorso di ognuno di noi perché non è cosa da tutti lei si sacrifica veramente tanto e quindi è incommiabile anche per il diciamo il meraviglioso numero di grandi autori nazionali internazionali che invita tutte le volte nei webinar quindi tanto di cappello grazie mille Marco allora prima di andare proprio alla conclusione io voglio domandare ai partecipanti che se volete vi chiedo di lasciarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook Instagram insomma ai nostri social diteci se vi è piaciuta la serata i vostri feedback sono veramente preziosi per noi ci fa piacere anche se ci lasciate un commento sotto la video della registrazione che sarà pronta già da domani mattina e vi arriverà un'email con il link infine voglio ricordare che potete vedere tutti i nostri webinar precedenti nella sezione webinar del giardino dei libri ce ne sono veramente tanti tanti molto interessanti esempio vediamo se hai una buona memoria Marco io me lo sono segnato se no non mi ricordavo il 23 gennaio del 2019 perché noi abbiamo iniziato a fare i webinar nel 2017 sei stato il mio ospite con questo libro qui abbiamo fatto assieme questo webinar con questo libro e l'argomento era le coincidenze che cambiano la vita è questo qua e se volete vederlo basta andare nella nostra pagina registrazioni dei webinar già terminati ti ricordi Marco? perfettamente e in più hai nominato Sonia a dicembre assieme a Sonia Benassi io medium hai fatto assieme a lei un altro bellissimo webinar esatto molto bella bellissima esperienza bene allora prima della conclusione io voglio ricordare che il prossimo webinar si terrà mercoledì 3 marzo alle ore 20 e 30 sempre in diretta ci sarà con noi Marianne Costa l'argomento della serata sarà i tarocchi passo per passo allora Marco siamo giunti alla fine vuoi salutare vuoi dire qualcosa in chiusura per tutti i partecipanti che sono veramente tantissimi ancora online è stato bellissimo avervi a livello invisibile ma vi sentivo che c'eravate spero di avervi dato qualche consiglio utile di avervi un po' illuminato qualcosa anche se il tempo era poco e di ritrovarvi ancora online prossimamente o nei miei corsi o da qualche altra parte andate anche sul mio sito non siamo qui per caso punto it dove metto lì anche i miei corsi cercatemi mi trovate ormai sul web è abbastanza semplice ciao a tutti buona serata buonanotte ricordatevi ridete 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 il più possibile della vita ecco l'ultimo consiglio che vi do ridete grazie grazie mille Marco un bacione a prestissimo poi a te ci sentiamo grazie a te e a tutti i partecipanti che ci seguono sempre numerosissimi ciao ciao salve amici state ascoltando Radio Book la radio del giardino dei libri qualche consiglio per l'anima il corpo la mente e lo spirito buon ascolto iniziamo con una massima che ci farà pensare ogni domanda riceverà risposta ogni desiderio sarà esaudito non avrai più bisogno di avere paura o di soffrire apriamo il sipario sulle novità editoriali e scopriamo The Great Secret di Rhonda Byron il segreto più grande accomodati a un tavolino lasciati sorprendere e gusta il tuo caffè questo è il messaggio di Tossicatsu Kawaguchi per basta un caffè per essere felici due consigli per la crescita personale l'ultimo libro di Erika Francesca Poli Ricucire l'anima e quello di Emma Marlene Esci dalla tua zona di comfort per la crescita spirituale Alberto Fragasso la bussola dell'anima e Marco Cesati Cassin la legge del karma se fallisci nel pianificare stai pianificando di fallire goals di Brian Tracy ed ora qualche novità per un corpo felice per essere più felici nella nostra vita noi siamo quello che mangiamo la cucina vegana e creativa a salutare è cool è il libro di Carlotta Pergo cucina botanica vegetale buona e consapevole un buon metodo per dimagrire potenziato con digiuno e chetoni esogeni è quello di Stefania Cazzavillan per super metabolismo con la dieta chetogenica e un buongiorno si vede dal mattino e dallo spazzolino ecologico delicato e 100% vegan è lo spazzolino idrofil e allora diamoci la mano e rinforziamoci per rinforzare l'organismo e potenziare le difese immunitarie consigli e rimedi naturali l'ultimo libro di Marcello Pamio respiriamo a pieni polmoni con le essenze diffuse della Pranarom un'energia frizzante acidule zeste tonico e tutti i mesi si ripropone io e la mia coppetta mestruale come funziona e perché usarla è il libro di Laura Brugnoli e se siete stressati avete delle tensioni i sali Epson sono l'antidoto perfetto perché sono aromatopeutici e lasciano la pelle morbidissima ecco e se volete integrare la vostra alimentazione con degli integratori alimentari di ottima qualità i prodotti zuccheri Salus e Algem vi lascio con un amorisma questo neologismo che abbiamo coniato per voi per regalarvi aforismi nati dal cuore il primo amorisma è quello di Selene Calloni Williams buon ascolto i tuoi avi guerrieri vegliano su di te come lucciole nella notte ti mostrano il cammino non desistere non arrenderti è il momento del puro impegno in entrambi gli stati di sonno e di veglia pensa che tutto ciò che tocchi vedi senti e su cui agisci è il tuo esercito i tuoi generali i tuoi scudi oggi è il tempo della vittoria Un po' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.